Un armonizzatore energetico. E come funziona? Funziona con un circuito che prende l'energia caotica dell'ambiente e la trasforma in energia pulita se vuoi. Ci stanno ai quattro angoli. E come l'hai concepito? Attraverso altre due persone. Ah, quindi tu fai come delle specie di accumulatori di rice? No, li facciamo, li vendiamo. Passa, rice shop. Le vendiamo. Le vendiamo? Le vendiamo alla galleria? Sì, ce ne sono quattro diciamo, ma sono tutti diversi. Non ti aspettare che li vendiamo tutti e quattro il primo giorno. Vanno insieme. Ah, ho capito. È un pacchetto proprio di... Hai quattro... Quattro elementi. Ah, quattro elementi, ma anche i quattro angoli. Sì, sono direzionati. Ma fortunatamente la casa... Principio alchemico. Quindi è molto semplice qui direzionarli in maniera molto precisa. Quindi qui con noi abbiamo un Reich. C'è un Reich in sé. Chiamalo argone, chiamalo energie sottili, chiamalo acupuntura, chiamalo... Chi? Chiamalo come vuoi. E se vuoi ti esposare la galleria di questi obiettivi? Lui dice che ce n'hai anche uno tascabile. Sì, che non c'ho adesso in questo momento. lo prendo. Sì. Per favore, per favore. Ma tutte queste... Tutte queste presse, queste... le fiume è dehorsi. Tutte le fiume in l'extrario. Un caffè, 5 da meù... Sì, vai la prendendo. È troppo bello questo laboratorio. Sì, vai a l'extrario. E questo è anche un truc incredibile. Ma non c'è alcune cose incredibili. Ma non c'è alcune cose incredibili. Il mi ha mostrato questo. È vero. E beh... E qua la taniere. C'è alcune di taniere della tenniera dell'Accumulata ergonomica. E, tu v i oggetti queste cose sono incredibili. C'è lui che fa tutto. La gravure au laser. Il ha le graver laser per fare cose. E, regarde le analogie con le dessine. E, è Hersch. c'est magnifique tu connais ce n'est pas Escher non je ne crois pas si c'est Escher non je ne pense pas c'est un nord et blanc c'est un truc classique c'est vrai c'est pas des fausses escaliers s'il y a des fausses perspectives oui mais bon je crois que ces objets qu'il y a au dessus c'est vraiment un truc très spécial en plus il y a un triangle avec deux tours tu vois bien qu'il y a un truc bizarre bon il utilise les angles est-ce que tu vois où je t'amène tu imagines en plus il est italien c'est une truc de malade this is the galerist this is the galerist galerist t'es vraiment galeriste